Sono questi elementi, assieme al rispetto dei principi di reciprocità e di parità di condizione che costituiscono da sempre la chiave di volta nelle relazioni tra le nazioni. Oggi più che mai, se noi non vogliamo rischiare che siano irrimediabilmente compromesse pace e stabilità, abbiamo bisogno, anche nei rapporti economici e commerciali, di una strategia che sia sempre più condivisa, che sia basata su decisioni che non ci danneggino l'un l'altro e che seguono alcuni principi di base. Tra questi sicuramente promuovere la capacità di competere rendendo le nostre economie e le catene di produzione e approvvigionamento più resilienti agli shock, più diversificate, in grado di generare innovazioni tecnologici senza che si perda capacità manifatturiera. Liberare il potenziale del settore privato, agevolandone una crescita sana al riparo dai sostegni a volte distorsivi della concorrenza e ancora tenere presente l'esigenza della proporzionalità per fare sì che gli strumenti di difesa economica siano commisurati a reale livello di rischio e non producano una compressione involontaria della libertà economica e commerciale e anche internazionale, principio che è tratto distintivo di una democrazia come l'Italia e di una società aperta come la nostra. La nostra nazione chiaramente resta desiderosa di cooperare, è ovviamente fondamentale per noi che i nostri partner si dimostrino genuinamente cooperativi, che giochino secondo le regole per assicurare che tutte le aziende possano operare sui mercati internazionali in condizioni di parità, perché se vogliamo un mercato libero quel mercato deve essere inevitabilmente anche equo.